qui la val torta mette un'altra visione febbraio i due preparatori hanno finito la preparazione delle bende vengono alla tavola e denudano gesù anche del suo velo passano una spugna mi pare o un batuffolo di lino sulle membra in una molto frettolosa preparazione delle membra goccianti da mille parti poi spalmano tutto il corpo di un guenti lo seppelliscono addirittura sotto una crosta di un guenti prima lo hanno sollevato nettando anche la tavola di pietra su cui posano la sindone che pende per oltre metà dal capo del letto lo riadagiano sul petto e spalmano tutto il dorso le cosce le gambe tutta la parte posteriore poi delicatamente lo girano osservando che non venga asportata la manteca degli aromi e lo ungono anche dalla parte anteriore prima il tronco poi le membra prima i piedi per ultime le mani che uniscono sul basso ventre la mistura degli aromi deve essere appiccicosa come gomma perché vedo che le mani restano a posto mentre prima scivolavano sempre per il loro peso di membra morte i piedi no conservano la loro posizione uno più dritto l'altro più steso per ultimo il capo dopo averlo spalmato accuratamente di modo che le fattezze scompaiono sotto lo strato di un guento lo legano con la fascia mentoniera per mantenere chiusa la bocca Maria geme più forte poi alzano il lato pendente della sindone e la ripiegano sopra a Gesù egli scompare sotto la grossa tela della sindone non è più che una forma coperta da un telo Giuseppe osserva che tutto sia bene a posto e appoggia ancora sul viso un sudario di lino e altri panni simili a corte e larghe strisce rettangolari che passano da destra a sinistra al di sopra del corpo e tengono a posto la sindone bene aderente al corpo non è la caratteristica fasciatura che si vede nelle mummie e neppure nella risurrezione di Lazzaro è un embrione di fasciatura Gesù ormai è annullato anche la forma si confonde sotto i lini sembra un lungo mucchio di tela più stretto ai vertici e più largo al centro appoggiato sul grigio della pietra Maria piange più forte Commento di Gesù al capitolo Angoscia di Maria al sepolcro e unzione del corpo di Gesù 4 ottobre 1944 dice Gesù e la tortura continuò con assalti periodici sino all'alba della domenica io ho avuto nella passione una sola tentazione ma la madre la donna espiò per la donna colpevole di ogni male più e più volte e Satana sulla vincitrice infierì con centuplicata ferocia Maria l'aveva vinto su Maria la più atroce tentazione tentazione alla carne della madre tentazione al cuore della madre tentazione allo spirito della madre il mondo crede che la redenzione ebbe fine col mio ultimo anelito no no la compì la madre aggiungendo la sua triplice tortura per redimere la triplice concupiscenza lottando per tre giorni contro Satana che la voleva portare a negare la mia parola e a non credere nella mia resurrezione Maria fu l'unica che continuò a credere grande e beata è anche per questa fede hai conosciuto anche questo dice Gesù a Maria valtorta tormento che fa riscontro al tormento del mio gezzèmani il mondo non capirà questa pagina ma coloro che sono nel mondo senza essere del mondo la comprenderanno e aumentato amore avranno per la madre dolorosa per questo l'ho data va in pace con la nostra benedizione grazie a tutti